Celme, leader nel mercato dei trasformatori in olio di tipo MT, BT e MT, MT, vede nel 2010 il quinto anno consecutivo di crescita, oltre 700 MW di potenza prodotta per impianti fotovoltaici e eolici e oltre 200 per impianti con grandi carichi distorti, con un fatturato in crescita rispetto al 2009 del 50%.